L'inaugurazione della BIT quest'anno è particolare, è più bella anche perché abbiamo il direttore dell'agenzia Marco Bruschini che ha voluto il presidente come persona che potesse gestire questa agenzia è molto importante per dare una opportunità in più alla promozione del nostro territorio sia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista dell'internazionalizzazione perché noi crediamo che il nostro territorio debba essere venduto insieme ai prodotti straordinari che facciamo sia legato al mondo dell'agricoltura, legato al mondo della manifattura, dei prodotti di piccoli locali e questo per noi è importante. Questo è il primo figlio dell'ADIM, lo stand della regione Marche alla BIT, abbiamo cercato di fare uno stand nuovo che voglia dare una grande immagine di questa grande regione. C'è un po' tutto, abbiamo deciso di fare 35 eventi proprio perché in questi 35 eventi riusciamo a rappresentare tutte le sfaccettature del turismo delle Marche. Parleremo dei cammini, di cultura, di sport e soprattutto di turismo ma tutti insieme per fare una promozione unica del brand unico delle Marche.